Rana ti voglio così, ti voglio tutto così Lollo oggi nuova challenge perché dovrai cercare di farmi ridere E se ci riuscirai ovviamente dovrò fare delle penitenze assurde Sei carico? Conti non so se hai capito ma il fungo alla funga dice Ciao facciamo l'amore e la funga risponde al fungo Sei un porcino Lollo possiamo, dato che devo fare delle penitenze Parti magari con cose un po' più Non puoi già farmi ridere per favore Non abbiamo neanche iniziato il video Io devo farti ridere, non so se è chiaro il concetto Ma non so se hai visto tra l'altro come mi chiamo Cioè tipo fammi ridere, cioè tipo ora Non aspetto altro, cioè non so se la battuta ti era piaciuta ma ce n'è un'altra Molto bella, puoi iniziare a farmela se vuoi Sì, inizio quando vuoi Aspetta che prima mi qualifico così non ho problemi E ti dico, conti, questa è molto divertente secondo me Dottore, soffro di personalità multipla Vi prego aiutateci Non fa ridere? Ma inizio con calma Ok, no, no, ma fai bene, fai bene Perché tu non so se lo sai Ma se tu adesso mi fai ridere Alla fine di questi tre round Tu dovrai farmi fare una penitenza Anche molto stupida Non lo so, puoi reciterla tu Allora guarda, ti voglio far soffrire in silenzio Infatti la prima risata te la faccio fare alla fine di questo round Ah, me non... No, come? No, io non voglio fare la penitenza Cioè nel senso, magari rideranno gli spettatori da casa Ma io non voglio ridere Tu riderai e riderai anche di gusto Perché ci sarà una cosa che a te fa ridere tanto Basta Per favore, non so se mi fa più ridere Lollo che parla o le battute di Loll E' ancora il problema Poi la schiacciata La battuta... Commetto, quello che vuoi che tu adesso Non guardare la mia webcam Non ti guardo, non ti guardo Ok, aspetta che sto cercando quello Ok, quando vuoi Quando vuoi guarda la webcam Ok, uno, due, tre Ma sei sformato, ma cos'è quella roba? Senti Sei bellissimo Io ho sentito una risata Ah Non so se te ne sei accorto È venuta troppo spontanea, dai, no Allora, facciamo una cosa Se vinco, non faccio la penitenza Ok Se perdo, me ne fai fare una troppo tosta Va benissimo Però io voglio giocare così Voglio giocare così Voglio essere carico No, prego, non posso No, 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 ti prego Lollo No, 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 no Sono andato a vincere Non andare avanti Sono andato a vincere Per favore, mamma, ti voglio bene Ok, raga, vi faccio vedere anche come si fanno i trick Non so se conoscete i trick di questa mampa Ma sono tipo Oh, ho già fallito il primo Aspetta che Aspetta che No, 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 faccio schifo Io te lo giuro che in questa mampa Sono uno dei player più forti Tipo, eh, maluco Però adesso Dato che mi stai facendo emozionare Sto perdendo, conta Oh, calmiamoci Prendo l'ostacolo Non devo toccare l'acqua Ma io faccio veramente cagare su questo giocolollo Intanto pensa già alla penitenza Perché Ti penso subito anche perché Oh, sono caduto di nuovo No, 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 no Scusate ragazzi Sto facendo troppo schifo Veramente Non lo sto facendo apposta Aiuto Non ci credo Sto arrivando Ho vinto Cioè, tipo Eh, sono io Sono Stumbleguiz 50, 57 Sono proprio io Io però voglio una cosa adesso Dato che tu non hai vinto Ok Tu non hai vinto Ti ho fatto ridere Quindi tu adesso Fai la prima penitenza E sarebbe lollo Oggi mi sento tipo Molto simpatico Tu farei una cosa adesso Tu salterai Tutta la stanza Ok, vabbè Facile, dai Facile Perché salterai Esattamente Così No, no, no Ma con Ma con che faccia me lo senti No, devo saltare come una rana Devi saltare come una rana Tipo così Ti voglio tutto così Una domanda, no Non ho capito una cosa Ma da quando le rane C'hanno i denti Senti Non fai domande Sono una rana moderna Ok Ok, adesso lo faccio Ma dimmi per quanto tempo C'è tipo due, tre saldi Tipo 10 secondi Mi godo la scena da seduto Mi schifo Sembra un petto di pollo Però salta adesso Adesso veramente Io sto aspettando solo quello Signori dai siamo pronti Paghiamo le nostre penitenze Devo fare ovviamente Il pirla Ovviamente Crack 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 Tanto bene Perché la penitenza Me l'hai fatta fare Ma questa volta Giuro che sarò la persona Più seria di questo mondo Vero? Tu non puoi essere serio Perché io ti faccio ridere Riso pasta Allora Lollo Non so se lo sai Ma a me mi chiamavano Il maradona della situazione Metto le palle tutte in buca Guarda come sono forte Oh, pensavo le mettessi Da un'altra parte Comunque vada Sempre in porta Sempre in porta No, no, no Siamo 1-0 Vai Oh mio Dio Quanto sono forte Mi sa che questa volta Lollo non mi farei la penitenza Se io sto godendo tipo troppo Ad un tir pieno di lampadine La polizia brancola nel buio Non fanno ridere queste ragazzi Mi serve qualcosa di più divertente Non troppo Però devo ammettere Che si sta scaldando la situazione Quindi Mi serve una che mi fa esplodere Lollo Mamma mia Mamma mia Che cosa sta a voi Il muto dice al sordo Il cieco ci sta spiando Questa è la simpatica, no? Quanto se c'è qualcuno Tipo che ci segue adesso Eh, non ci sente Scherzo Questo round di calcio L'ho vinto io Troppo forte Sei Cristiano Ronaldo Adesso ti spetto E adesso finco anche la finale con Ronaldo Non so se lo sai Guarda Io sapevo che in teoria Cioè, in realtà nel gioco Devi andare avanti Non è che devi tornare indietro Poi non lo so Ma perché sono Ronaldo Cioè Sì, certo, certo Tipo, hey Tipo Ronaldo Pappa Schifo le cose No Ma sei una pippa, Lollo La mia Ce la potresti fare Concentrati Salta Doppio salto No Ce la vuoi fare, Lollo Dai Ronaldo Cristiano Ronaldo Sui Sui Se vinci devo fare un'altra penitenza Quindi devi per forza farcela Se vuoi vedermi soffrire Vai avanti, signor uomo No, Lollo Ti prego Non vincere Ha vinto Sui Sì Guarda Questa Ronaldo Che palle Ti prego, ragazzi Va a vincere con Cristiano Ronaldo Mamma mia, signore Uuuu 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 Stà risata mi è piaciuta Ma adesso Dato che hai riso E devi fare la penitenza Voglio 10 piegamenti Bene 10 pressioni Così spingi Con quelle braccia Spingi C'è una bella pagnottella Cioè si vede Però manca a far così Dai Facciamo sta penitenza Ma in realtà Per me è molto easy Lollo ti odio Diciamo che su tutti i due i round Non è andata tanto bene Perché diciamo che ho fatto Solo io le penitenze Ma questa volta Siamo in questa mappa Dove ti arrivano le palle in faccia Lollo Tu dimmi che sei scarso In questa mappa Sono scarso Anzi Ti sto proprio dietro alle tue chiappette Anzi Io non ho le chiappette Io sono uno scheletro Lollo Comunque dopo Appena mi qualificherò Tu dovrai ovviamente Accendere la mia webcam E guardare la mia faccia In questo momento Perché secondo me Secondo me È molto simpatico Dammi tipo due secondi Non è caduto Non ci credo Ti ho visto Ti ho visto Ok adesso Respiro E guardo la tua condivisione Uno Due Tre Ciao Contins And the fan Taglio L'ultima risata Te la voglio fare Fare con stile Quindi Fermi però No Non stavo vedendo Stavo vedendo la faccia di Lollo Cazzarolla Non vale Non vale Vinto Hai vinto Lollo Sì sì ho vinto Guarda la webcam Devi guardare Ok vediamo Io qua sentivo due risate Quindi voglio tipo due penitenze adesso Capito ma è bellissimo Cazzarolla Dai Allora facciamo una cosa Faccio due penitenze in una Lollo Mi fanno struzzare Mi fanno struzzare Una cosa Hai riso due volte Devi fare due penitenze Ma io voglio esagerare Ok Vuoi scommettere che ti faccio ridere Eh scommettiamo Io ho paura Però scommettiamo Questo rumore È un rasoio elettrico Ma è un telefono quello È un rasoio Guarda Guarda No no Che fai Ti tagli i capelli Sì sì Mi tagli i capelli Guarda però aspetta Me li taglio tutti Li taglio tutti Cazzio Come li taglio tutti Aspetta che li taglio tutti Guarda guarda No no Oddio sono un botto C'è sono tipo Oddio non l'ho Mi ho spaccato il naso Mi hai fatto ridere Lollo Quindi dovrò fare tre penitenze Allora la prima È sicuramente Quella di Tipo Mettere una storia su Instagram E dire che sono il migliore Di tutti i tempi Aspettate La faccio subito Guarda Andiamo su Instagram Tra l'altro Seguimi anche su Instagram Mi chiamo ContinsYT E facciamo questa storia Ragazzi ve lo giuro Che non sto registrando un video Ma volevo dirvi Che Lollo Pollo È il migliore Ve lo giuro Che non me l'ha detto lui Lo Mi sentivo Mi sentivo di dirlo Mi sentivo di dirlo Quindi Lollo Pollo Sei il migliore Prossima penitenza Devo fare il ball di jumping Non lo so Devi sciopare 15 euro e 50 E va bene Facciamo che 15 euro te li mando Mandami Paypal Perché Guarda Non so perché Ma su Stambo Guys Non mi fa sciopare Guarda Lo stesso Mandami quello che vuoi Ok E dai Te li mando Come ultima penitenza Invece ti chiedo di Accompagnarmi a fare una rapida No scherzo È una capriola Vuoi una capriola Adesso Con che faccia me lo stai dicendo Ma va bene la faccio Allora vi faccio vedere Vi inquadro bene la mia cazza Allora la distanza E facciamo questa bella stronzata Ti prego Molto bravo Comunque devo ammettere Che sono un atleta Comunque ragazzi Per questo video Vi chiedo almeno 800 like Ma che 800 Almeno 1000 Ok 1000 Fa un po' male 1000 Per questo video ragazzi Vi chiedo almeno 1000 like Lollo non ce la faremo mai Ma se ci arriva Facciamo la seconda parte Guardate di andarvi a scrivere Anche al canale di Lollo Lo trovate qua sotto In descrizione E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao belli Ciao belli